Stiamo assistendo ad una campagna elettorale che ancora non è iniziata e già contiene tutto il veleno di una città repressa degli ultimi vent'anni, forse anche di più. Vediamo e ascoltiamo quotidianamente un clima di veleno, di sfida, di scontro e questo clima è un problema se abbiamo deciso a questo clima di dare una risposta e lo abbiamo fatto secondo me nel migliore dei modi e nell'unico modo possibile per poter parlare di politica, ovvero alle fangate, ai colpi bassi, ai tentativi di arrestare un processo che ormai è in corsa e non si ferma più. Noi contrapponiamo le nostre idee, l'idea di una visione di città moderna, attuabile e abbiamo affidato questo compito a due professionisti che lavorano nella nostra città. Ma iniziamo immediatamente con il programma che fondamentalmente è poi quello per cui tutti quanti siete qui da noi. Turismo ed economia sono uniti tra di loro, hanno una stretta correlazione. Siamo partiti dal turismo proprio perché è probabilmente la cosa che è più distante dalla Lentini di oggi. Tuttavia vi voglio invitare a fare una piccola riflessione. Lentini ha delle ottime chance di esprimere nei prossimi anni, quindi non il giorno dopo dell'elezione del nostro sindaco, ma nei prossimi anni, di esprimere una buonissima vocazione turistica per una serie di fattori. Il primo fra tutto è una posizione geografica che ci rende assolutamente unici per la Sicilia orientale. Siamo a due passi principali metaturistiche della Sicilia orientale. Ho messo un'immagine che è quella dell'Etna, ma vedrete immediatamente dopo c'è Catania, Siracusa, Noto, Modica, insomma la maggior parte dei siti di interesse turistico della Sicilia orientale sono a meno di un'ora dal nostro paese. Quindi io dico perché il comune, l'amministrazione non valorizza questo aspetto, non valorizza la straordinaria posizione logistica del nostro paese? Potrebbe già solo questo, semplicemente un'attività di comunicazione ben fatta, strutturata, potrebbe aiutare, potrebbe apportare dei benefici alle strutture turistiche che già insistono nel nostro territorio. Agriturismi, Bed & Breakfast, ce ne sono parecchi. I turisti scelgono gli agriturismi di Lentini e Carlentini perché logisticamente sono perfetti per gli spostamenti verso Modica, verso Catania, verso Lettina, verso Siracusa, verso tutte le zone della Sicilia orientale, ma a Lentini non vengono. E perché? Perché fondamentalmente non c'è una comunicazione su quello che possiamo offrire, ma mi assicuro che Lentini può offrire tanto nell'ambito turistico. Il lago di Lentini lo conosciamo tutti, fondamentalmente da 25 anni, forse più, che abbiamo l'invaso artificiale più grande d'Europa, non fruibile però né alla cittadinanza né ai turisti delle zone vicine, anche delle cittadine vicine. Cosa stiamo aspettando? Qualcosa dovrebbe fare un'amministrazione comunale? Dovrebbe spingere affinché una risorsa inestimabile come quella che abbiamo a pochi passi da Lentini venga utilizzata e noi lavoreremo per fare questo. Ma non solo. Alcuni esperti di chiese rupestri mi hanno detto che fra Lentini e Carlentini noi abbiamo un tesoro inestimabile. La chiesa di San Giuliano, l'oratorio rupestre di Santa Lucia al Tirone, al Castellaccio, la chiesa del Crucifisso, la chiesa di Sant'Andrea, l'oratorio del Cristo Biondo, la grotta di San Mauro. Per molti amministratori queste sono pietre, non hanno nessun valore. In altre parti d'Italia le pietre portano ricchezza, uno fra tutti in Matera. Le pietre hanno un valore inestimabile. Potrei continuare anche citando l'area archeologica, il Castellaccio, che più ne ha più ne metta. Sono sicuro di aver dimenticato qualcosa. Il barocco della chiesa madre, la festività di Sant'Alfio, tutte le iniziative folcloristiche che possiamo organizzare a Lentini e che potrebbero essere un motore per la nostra cittadinanza in ambito turistico. Noi del Movimento Ora siamo convinti che occorre avviare un cambiamento in tal senso. Occorre lavorare affinché Lentini esprima una vocazione turistica grazie alle ricchezze che già possiede. Non dobbiamo inventarci nulla, dobbiamo soltanto renderle disponibili alla collettività. Se Lentini avrà un ufficio turistico capace di valorizzare i luoghi che già possediamo, allora automaticamente gli avremo un beneficio anche a livello turistico. Adesso parliamo di economia. Turismo e economia sono strettamente correlati, però è chiaro, abbiamo parlato di una visione cinque anni, non si può campare, almeno in questo momento, solo di turismo. Quando parliamo di economia, noi immaginiamo un'economia che andrà almeno su due binari. Il binario della tradizione, dove per tradizione intendiamo i frutti della terra, ciò che fino ad oggi ha un sacco di famiglie lentinesi a dato sostentamento. Non solo frutti della terra, ma anche i prodotti tipici della nostra zona, il pane di lentini, l'olio prodotto nelle nostre zone e tutti quei prodotti che hanno una tipicità con il nostro territorio. E poi innovazione, dove per innovazione mi riferisco sostanzialmente a tutte quelle attività che hanno a che fare con il mondo dell'informatica, del digitale, attività che qualcuno di noi dirà, ma sono cose del futuro? No, sono cose del presente. E se le sviluppiamo adeguatamente, e vi assicuro che a Lentini ci sono delle eccellenze in tal senso, se le sviluppiamo adeguatamente, Lentini in futuro sarà una città viva. Iniziamo con la tradizione. Qual è il nostro obiettivo? Il nostro obiettivo è avviare una fase di confronto con le migliori realtà regionali, nazionali, che hanno avuto problemi analoghi a quelli nostri, che li hanno superati. Ho portato l'esempio del Consorzio Melinda, perché è molto simile, caratteristico di una storia di successo tutta italiana. Però in Sicilia, in provincia del Grigento, abbiamo le arance di Bera, Riberella, un marchio che è conosciuto sicuramente più dell'arancia di Lentini. E che non ha sofferto le stesse problematiche, e gli stessi problemi di crisi dovuti praticamente a che ha sofferto l'arancia lentinese. Questa storia dell'arancia di Bera a me fa rabbia, immagino anche a voi. In Val di Nonne, in Alta Italia, si riescono ad organizzare, riescono a fare consorzio cooperativo, riescono a parlare fra di loro e producono un prodotto che è unico e che viene premiato nel mercato. Ma Ribera è un passo da Lentini. Quindi se ci sono riusciti i commercianti e i produttori di Ribera, io penso che anche i commercianti e i produttori di Lentini lo possono fare. È fondamentale abbandonare l'iniziativa del singolo, gli approcci individuali, per abbracciare un approccio di squadra. Qualcuno nel pubblico probabilmente starà pensando, ma già ci abbiamo provato negli anni passati, non ha funzionato, il lentinese non è bravo a fare questo. E io vi dico che non è così. Io vi dico che adesso il lentinese che qualche anno fa non ci è riuscito, ha dei figli che hanno studiato e che vogliono superarlo questo problema e che vogliono aiutare i genitori a avere uno sbocco futuro per i propri agrumi. Torneremo sulla tradizione, quindi sull'economia della tradizione, nell'ultima slide, quando parlerò di attività commerciali. Adesso volevo spendere qualche parola sul concetto del binario dell'innovazione. Ve l'avevo accennato, per innovazione io intendo, noi intendiamo produzione software, energie rinnovabili, web, telecomunicazioni. Voi direte, ma di che sta parlando questo? Ma dove sono queste aziende così innovative che si occupano di informatica, di energie rinnovabili, di web? E vi dico che ci sono queste aziende. Lentini ha una marea di eccellenze in tal senso. Abbiamo start-up, abbiamo produttori di game che vengono venduti, di giochi online che si utilizzano appunto dai giovani, che vengono vendute in tutte le parti del mondo. Abbiamo aziende di comunicazioni, più di una addirittura. Il nostro obiettivo è quello di valorizzare queste professioni, perché sono professioni del presente, rappresentano le professioni del futuro, rappresentano la domanda del futuro. E se noi non investiamo anche su questa tipologia di professioni, rischiamo che fra dieci anni, vent'anni, Lentini sia un paese morto, perché tradizione e innovazione devono andare di pari passo. Noi però crediamo, noi del movimento crediamo che una città viva non può prescindere dall'esistenza del paese, del negozio di quartiere. Noi crediamo che sia fondamentale ricreare le condizioni affinché i negozi del centro cittadino riaprano e permangono nello stato di apertura. Noi pensiamo che chi dice che a Lentini occorrono i centri commerciali, dica una fandonia, non è possibile immaginare che a Lentini aprono i centri commerciali, perché vorrebbe dire che gli ultimi negozi che ci sono nelle vie cittadine chiuderebbero, vorrebbe dire che a Lentini si trasformerebbe come è avvenuto in un sacco di paesi siciliani, in un dormitorio. Noi punteremo affinché ci siano le condizioni, perché nel centro urbano, nelle vie Garibaldi, nella via Contalaimo, ma un po' in tutta Lentini, ci sia nuovamente la riapertura dei negozi. Ci siano le condizioni affinché locatari e negozianti trovino un punto di incontro, magari per avere dei costi più bassi di affitto, per avere, grazie ad un intervento da parte del Comune, uno sgrabio fiscale nei primi anni di apertura e ovviamente lavoreremo affinché Lentini sia nuovamente dei lentinesi. Ma vi rendete conto, la maggior parte delle motivazioni per cui i negozi hanno chiuso è perché a Lentini non si può più fare una passeggiata, a Lentini non si può più camminare, non abbiamo più uno spazio nostro e quindi automaticamente i lentinesi si sono disaffezionati. Quindi, come vedrete nelle prossime settimane, noi li abbiamo affrontati questi temi e parleremo nuovamente di incentivazione all'apertura dei negozi cittadini. Quando parleremo di vivibilità e di sicurezza, perché è fondamentale, si parte da quello e finalmente completeremo l'area ASI, un'eterna incompiuta, lavoreremo per il completamento dell'area ASI. Vogliamo mostrare come abbiamo intenzione di aumentare l'efficienza della macchina amministrativa. D'altra parte però vogliamo farvi vedere come in maniera paradossale l'incremento dell'efficienza della macchina amministrativa passerà attraverso la riduzione dei costi. Una cosa che può sembrare apparentemente paradossale. Dai servizi e a bassi costi, come fai? Vedremo anche come incrementeremo il risparmio ed è importante perché se l'amministrazione comunale risparmia sicuramente risparmiamo anche noi. E d'altra parte le economie generate possono andare a essere le spese nei servizi che vogliamo creare. Ancora è assurdo che nel 2016, quando andiamo in un ufficio comunale, dobbiamo compilare montagne e montagne di moduli cartaci. Addirittura compiliamo un modulo con la nostra anagrafica in un ufficio, scendiamo di un piano, andiamo in un altro ufficio e ricompiliamo di nuovo un modulo con la nostra anagrafica. Mi sembra veramente assurdo. Cosa dobbiamo fare? Nulla. Semplicemente guardarci intorno e vedere che in realtà le soluzioni già esistono. C'è il sistema pubblico per l'identità digitale. Dobbiamo solamente prenderlo e applicarlo. Cosa vuol dire? È un sistema molto semplice. Si tratta di una coppia di credenziali associate alla nostra carta nazionale dei servizi, al codice fiscale o un altro documento di tipo elettronico con chip, che ci consente di entrare in qualsiasi ufficio comunale e farci riconoscere, senza dover compilare di nuovo le montagne di carta. Siamo nel 2016, è assurdo questo. Inoltre il sistema è sicuro, la privacy è garantita, non c'è nessuna attività di profilazione, non è perché entriamo in un ufficio con il nostro documento, qualcuno va a profilare i nostri interessi, è una cosa garantita dal Ministero, non viene fatta. Inoltre sicuramente l'abbattimento dei costi legati a la carta legata al toner può che ci sia da una parte un risparmio, ma dall'altra parte anche un rispetto maggiore per l'ambiente. Sempre parlando di ambiente, è importante che la pubblica amministrazione debba fare esempio. Pertanto se vogliamo far spingere i cittadini affinché utilizzino l'energia rinnovabile, affinché applicano le normali regole per ottenere un risparmio energetico maggiore, dobbiamo far sì che anche l'amministrazione comunale ottenga dei finanziamenti affinché ogni edificio comunale possa avere un risparmio energetico più elevato e soprattutto possa utilizzare le energie rinnovabili. costi assurdi. Sempre parlando di costi assurdi, è assurdo che attualmente si pagano nel Comune di Leppi e il Comune di Leppi, costi pari a migliaia e migliaia di euro, canoni o costi per il consumo per le linee telefoniche. Attualmente c'è una tecnologia chiamata VoIP che non è una tecnologia futura, il VoIP ormai è una realtà, è utilizzata, tutta la rete nazionale utilizza il VoIP, tranne l'ultimo miglio, ovvero quello che ci viene fatto pagare da parte del gestore telefonico, qualunque esso sia. Il VoIP porta risparmio. Dall'altra parte però il VoIP non porta solo risparmio, il VoIP porta anche servizi innovativi, altrimenti impensabili. Ad esempio, giusto per citarne qualcuno, che sono parte integrante della nostra rivoluzione di macchina amministrativa che vogliamo mettere in atto? Vorremmo abilitare una richiamata automatica? Cosa vuol dire? Il cittadino chiama al Comune, il dipendente comunale magari è impegnato in un'altra conversazione con un altro che sta chiedendo altre informazioni, deve stare al telefono ad attendere che si liberi la linea? No, semplicemente seleziona di essere richiamato e aggancia, dopo qualche minuto, quando la linea sarà libera, l'utente verrà richiamato. Quanto costa? Zero per il cittadino perché viene richiamato. Quanto costa per il Comune? Zero perché vengono a utilizzare delle linee dedicate a costo zero. Pertanto non pagherà il Comune, non pagherà il cittadino e non perderà tempo nel Comune e nel cittadino. In ottica di ottimizzazione dei costi, quindi di riduzione dei costi, attiveremo anche i servizi di VoIP fax. Non si può ancora oggi spendere soldi per carta e per toner. Ci sono dei servizi, mandare un fax sarà uguale a mandare un'email, il costo sarà lo stesso, sarà semplice allo stesso modo. Ora parliamo di tasse. Sicuramente pagare le tasse per un'amministrazione comunale che lavora bene, che offre servizi, che investe nel territorio è giusto. Sicuramente non sarà bellissimo come molti ci hanno detto, però comunque è giusto. Però è anche vero che pagare le tasse per molti cittadini può diventare realmente impossibile perché magari si perde il posto di lavoro, si hanno difficoltà economiche momentanee, non si riesce a pagare l'affitto, non si pagano gli alimenti e come si fanno a pagare le tasse. A questo punto sicuramente il cittadino che è in difficoltà non va ulteriormente tassato e quindi sovraindebitato, il cittadino che è in difficoltà da parte dell'amministrazione comunale seria va aiutato. Come abbiamo deciso di aiutarlo? Al solito, senza inventarci nulla, applicando ciò che già esiste e ciò che già è possibile applicare immediatamente. Diamo alcune precisazioni. È già qualcosa di previsto, esiste nel famoso decreto sblocca Italia, l'articolo 24, decreto legge è già convertito anche in legge, non dobbiamo fare nulla, se non adottare un regolamento comunale adeguato che vada a stabilire quali sono i criteri per accedere al famoso baratto amministrativo. Viene rivolto solo ed esclusivamente a chi ha reali necessità, solo a chi ha veramente bisogno, solo a chi non può realmente pagare le tasse, però allo stesso tempo vuole contribuire affinché la collettività possa andare avanti con i servizi. Importante, sarà legata la corrispondenza effettiva fra il tipo di lavoro prestato e il tributo da tagliare. Un esempio su tutti, il cittadino che si impegna a ripulire i muri dalle scritte, il cittadino che si impegna a ripulire la villa comunale perché è sporca, perché magari c'è qualcosa da tagliare, potrà ricevere esenzioni in materia di tributi su rifiuti locali. Ovviamente parliamo solo ed esclusivamente di tributi locali, non si può parlare di tributi nazionali come magari è stato fatto. Tra l'altro, cosa particolarmente importante e a cui teniamo molto nei ragazzi del Movimento Ora, è che rendersi parte di un'amministrazione fa incrementare il senso civico di ognuno di noi. Se un giorno ho pulito la villa comunale, se un giorno ho pulito un muro, l'indomani quando la vedo sporcare, imbrattare, stanno imbrattando, stanno sporcando il mio muro, stanno sporcando io stesso ho ripulito. Marco e Alessio vi hanno condotto per mano, non in una città futuristica, vi hanno condotto per mano in maniera virtuale facendovi toccare con mano quelle che sono delle realtà già esistenti. Anzi, io mi aspettavo di suscitare in voi la curiosità e anche lo scetticismo. Mi aspettavo che qualcuno dicesse sì ma queste cose sono irrealizzabili e loro lo hanno detto bene e mi hanno anticipato. Non sono cose irrealizzabili, sono cose già in atto. Qualcosa che noi consideriamo futuro in questa città medievale è già in atto da circa dieci anni, in realtà che sono fiori all'occhiello perfino di comuni relegati nei monti siciliani. Questo per dire cosa? Questo sarà il nostro stile da oggi fino al 5 giugno. Qui in questa sede, in questa stanza, in questo movimento e la nostra campagna elettorale non vedrete in noi, nei nostri volti, l'ansia, la rabbia, l'ansia da prestazione, di arrivare per forza a un risultato. Non ci vedrete frenetici a parlare con chiunque per convincerli ad accompagnarsi al voto. Noi non insulteremo le persone rispetto agli altri che stanno parlando di persone e di gossip. Questo per noi è la cifra della nostra campagna elettorale. E vedete, questo viene da una parte di città che è stanca e martoriata, perché non ci vuole molto a criticare la realtà esistente. Non ci vuole molto a distinguere tra chi queste cose le sta pensando e tra chi queste cose non le vuole nemmeno immaginare. E vi racconto un aneddoto, non vi faccio il nome. Ieri abbiamo praticamente chiuso la nostra seconda lista e vi annuncio e vi comunico vi ricordo che noi parteciperemo a queste elezioni con tre liste che fanno capo al movimento ora, tre liste. Noi abbiamo accettato l'ultima candidatura della seconda lista e vi racconto questo aneddoto. Il candidato in questione era stato contattato da una coalizione, da una candidata, perché ti parlo di un progetto. All'incontro, quando il potenziale candidato ha chiesto, ma le vostre idee, il vostro programma qual è? Gli è stato risposto, non ti preoccupare, tu facci vincere, noi vinciamo e poi attuiamo tutte le cose giuste da fare. Ecco, questa che può sembrare una frase normale in questa campagna elettorale abbenenata è proprio la sintesi di un fallimento di una società e di una politica, di una classe politica. È quella del programma che si fanno le fotocopie del programma alla Buffetti, c'era qualcuno che diceva. No, il programma è quello che tu hai in testa, è quello che tu realizzerai e soprattutto il patto che tu hai fatto con chi ti sta dando fiducia. Ecco, per chiudere, questa persona ha accettato, è presente qui, sarà candidata e penso che sia soddisfatto di aver visto che ci sono delle idee e delle teste pensanti. Io faccio solo questo accenno perché mi sono ripromesso di non parlare degli altri, che noi siamo la coalizione che qualcuno ci definisce fuori schema. Noi non abbiamo né ritmi di partito, né imposizioni, né avremo imposizioni, né di nomi, né di pensiero. Noi continueremo così fino al 5 di giugno. Vi invito a riflettere su una cosa. Oggi abbiamo fatto quasi una lezione su quella che può essere la città futura e per un'ora persone numerose hanno riempito questa sala e per un'ora sono stati in silenzio ad ascoltare contenuto. Quando gli altri ci stanno dicendo che oggi è difficile fare politica, oggi è difficile fare aggregazione, la sala è ancora piena. Non si è stancato nessuno perché non è vero che la gente è stanca. La gente non è stanca della politica. Perché la politica è quel meccanismo che fa funzionare una società, una città, è quel meccanismo che rende un insieme di singoli, li rende comunità. Se c'è la politica succede questo. La gente non è stanca della politica, la gente è stanca dei personaggi che hanno colonizzato le istituzioni e l'hanno spacciata per politici. Quelli sono colonizzatori abusivi. Noi non dobbiamo fare altro che continuare a far conoscere quale sono le nostre idee. Continuare a far conoscere chi c'è dietro le nostre idee. E ve ne stiamo dando dimostrazione di volta in volta. Abbiamo fatto, mi pare, quattro iniziative pubbliche, tra parentesi noi parliamo di programma, ancora gli altri non sanno di cosa devono parlare. Noi abbiamo fatto quattro iniziative pubbliche e abbiamo alternato almeno sei, sette oratori diversi. Tutti sei, sette oratori che non hanno esperienza politica a parte me. Quindi io dico per l'ennesima volta l'esperimento sta riuscendo. Vi lascio solo con una battuta, con una conclusione. Oggi io ho fatto parecchie campagne elettorali, ho assistito a parecchi incontri e sono stato un iscritto ad un partito, sono stato un iscritto ai partiti, ne conosco il funzionamento. Ma credetemi, quello che abbiamo smosso da novembre dell'anno scorso ad oggi, ad ora, che siamo ad aprile e a giugno si vota, io questa cosa non l'ho mai vista. L'entusiasmo, la passione che abbiamo riscoperto in qualcuno che non ci credeva più, la partecipazione e soprattutto la volontarietà della presenza e dell'intervento, questa cosa non l'ho mai vista nelle ultime campagne elettorali che ho fatto, ne ho fatto in una decina d'anni e ne avrò fatte una ventina di campagne elettorali. Prendete questo esempio, prendete questa citazione. È la materia più preziosa, e ce l'abbiamo noi, che si può avere in campagna elettorale. Se le altre coalizioni possono avere la persuasione, possono convincere, possono trascinare, noi abbiamo la volontarietà e la passione. Questi sono due ingredienti che faranno la differenza, che faranno saltare i loro sondaggi finti, perché loro mettono in giro dei sondaggi finti, perché cominciano ad avere paura, cominciano ad avere paura e timore che perderanno quello che loro abusivamente hanno conquistato in questi anni, con le menzogne e con le false promesse. Noi abbiamo questi ingredienti preziosi. Se ognuno di noi, come già sta succedendo, riuscirà a trasmettere quella che è la nostra idea, quella che è la nostra passione, il nostro impegno e soprattutto la nostra determinazione, il 5 di giugno questa città veramente affronterà una nuova primavera. Io vi saluto e vi lascio al prossimo appuntamento e vi ricordo che convincere delle persone adesso, far notare la differenza tra noi e loro, chiunque, sarà importantissimo. Non trascinate le persone a votarci, ma trascinate le persone a ragionare. Devono distinguere tra politica e affari, devono distinguere tra aggregazione e clientela. questo è quello che noi possiamo offrire e lo stiamo offrendo a questo mercato della politica distrutto. Non aggiungo altro, continuiamo con la passione e a giugno avremo una nuova classe dirigente in questa città. Grazie.